L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambassati. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambassati. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambassati. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambassati. Contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. Italia proletaria e fascista è per la terza volta in piedi forte, fiera e compatta come non mai.